campanari buongiorno come vedete stiamo facendo manutenzione al campanile le campane nonostante ciò continuano a suonare perché comunque non danno fastidio guardate un po come è venuta lucida la ringhiera l'abbiamo fatta stamattina guardate un po adesso ve ne faccio vedere un pezzo invece che non è ancora finita eccola qua vedete che non c'è proprio uguaglianza qui dobbiamo risistemare un attimo il guardate dobbiamo sistemare questo abbiamo deciso di mettere queste le metteremo così da laggiù fino a laggiù e poi il lavoro è terminato vi tengo aggiornati su tutto amici qui c'è la campana grossa che adesso voglio controllare una cosa sì va bene lì abbiamo la piccolina e vi faccio vedere un'altra cosa lo riconoscete quello la ebbene sì è il mio pendolo che a breve lo dico già perché così magari qualcuno lo sa e a breve il pendolo verrà portato in casa di campagna nella mia casa di campagna dove si trova la mia cappella privata siccome le campane stanno qui a spezia quindi non si possono portare su porterò nella casa di campagna nella mia cappella privata almeno il pendolo così riusciamo riusciamo a far suonare le campane pure lì un saluto da campanaro della spezia ciao alla prossima